Jerry mangia gamberetti due volte al giorno, mattino e sera, e dorme su quattro letti diversi, a seconda dell'umore e della sua inclinazione quotidiana. Jerry vive a Sacile, nel Pordenonese, e non sa in quanto gatto. Gira andaggio ma ha adottato alcuni anni orsono che da qualche giorno uno tra i felini più ricchi e invidiati. Detaglia, avendo ereditato circa 30.000 euro. Come riporta oggi il messaggero veneto di Udine nelle pagine locali. La sua padrona, deceduta pochi giorni fa, ha testualmente citato Jerry nelle sue Volont. Il lascito per la verite doveva essere spartito con Spartaco. Ma purtroppo il confratello passato recentemente a miglior vita. È alla famiglia ora non rimasto che adempiere alle disposizioni testamentarie e vergate in bella. Calligrafia dall'anziana. A rasserenare la vita di Jerry ci ha dunque pensato la proprietaria. Chi ha proprio tenuto conto di tutto. Segnalando nella sua memoria che in caso di necessite gli eredi potranno vendere gioielli e mobili. Per provvedere alle cure veterinarie e al suo mantenimento nel benessere. Il gatto Jerry cita il quotidiano di Udine riportando le parole della figlia dell'anziana signora. Era il suo beniamino. Pidi un figlio. Non resta che rispettare le Volonte di una donna straordinaria. Ci ha insegnato rispettare tutte le forme di vita per vivere in serenite e nella fede di un Dio. Che considera tutte le creature di pari valore. Jerry non lo sa che la sua padrona da poco scomparsa. Appare per un po' spaesato. Segnala il giornale. Comunque mangia con appetito. Gamberetti.